Ciao a tutti ragazzi qui è Jason Anghino e siamo qui con il vlog del venerdì Finalmente di nuovo con il vlog, l'altro è arrivato a 300 quindi di nuovo ritorniamo di nuovo a 300 like Se ci riusciamo ragazzi per avere il prossimo vlog sempre venerdì prossimo Comunque prima che mi scordo iniziamo subito con le fan art della settimana Ovvero sia delle settimane visto che la settimana scorsa me lo sono dimenticato Quindi ne metterò due questa settimana Una è questa, attivate il masalone preso direttamente da Austin Power grazie Luca per questa fan art E l'altra è questa, grazie a Sara che ha preso la mia faccia e mi ha reso la DC dei Cloud9 Ovvero sia Sneaky, Cloud9 snackino Comunque ragazzi dopo queste piccole fan art vi invito ovviamente a mandarmi delle altre fan art, meme, quello che volete Su Instagram, seguitemi su Instagram mi raccomando O su Facebook come messaggio privato, taggatemi ovunque, mandatemi messaggi privati, quello che volete E iniziamo subito con il fuck La prima domanda di oggi è di Federico che mi chiede Se gioco solo a giochi per il PC o anche a quelli per telefonino Principalmente sì, gioco soltanto a giochi per il PC che sono League of Legends, GTA o qualcosina Tipo i giochini speedrunner, Leta League, questi qui E gioco anche un pochino sul telefonino Proprio adesso ho iniziato a giocare a... non so se lo vedete Clash of Clans Poi c'ho anche Airstone sul telefonino E un giochino di Pac-Man Principalmente sono questi giochi che gioco sul telefonino perché sono giochi poco impegnativi e che mi tengono Oddio, Clash of Clans poco impegnativo è un parolone Però comunque che mi tengono poco tempo al telefonino Anche perché già ci sto parecchio se dovessi iniziarci anche a giocare seriamente è un problema Comunque ragazzi se avete in mente qualche giochino da farmi provare e magari vorreste qualche video per cellulare Mi raccomando nei commenti ditemelo che così lo provo e magari vi porto qualche video Proprio anche al qualche video di prima si ricollega Andre Che mi chiede quali altre serie ho in mente se è un grandissimo Grazie, grazie mille della domanda Comunque altre serie attualmente non ne ho in mente Ovvero sia Principalmente sto portando come ho detto sempre League of Legends Che sarà sempre il gioco di punta del canale Sto portando ultimamente qualche challenge e mi sto divertendo veramente tantissimo L'ultima addirittura l'ho fatta insieme a mia madre che vi invito a guardare e la metterò in descrizione Comunque se avete idee su giochi magari con una storia che volete vedere com'è la storia giocata da me O gameplay che avete intenzione di voler vedere sul canale nuovamente che avete già visto o nuovi che volete vedere Scrivetemeli nei commenti e io mi adopererò ad avere il gioco e magari a farci qualche video Quindi mi raccomando aspetto tanti commenti che oltre ad avere tante altre domande per il fa Voglio vedere che giochi o che serie avreste in mente da farmi fare Carla invece mi chiede cosa ne penso dei mondiali appena conclusi Purtroppo non sono potuto andare anche se stavano in Europa a vederli dal vivo È stato un gran peccato perché non so quando li rifaranno in Europa Comunque li ho potuti vedere fortunatamente da casa su Twitch non sono dovuto uscire quel pomeriggio Quindi me li sono visti tutti quanti e che figata Se non avete visto le finali ragazzi andatevele a vedere Gli SKT hanno dominato Lo so è uno spoiler però ormai lo sanno tutti Gli SKT hanno dominato e sono stati fantastici Solo un game hanno perso che si sono lasciati andare un pochino Anche se anche lì, anzi soprattutto lì in alcune azioni gli SKT si sono sempre contraddistinti Se voi vedete qualche azione è stato uno spettacolo Io penso che l'Europa abbia fatto un grande passo in amante Infatti ci sono arrivati Oregon e Fnatic alle semifinali Cose mai successe Due squadre contro dei coreani Finalmente Gli americani sono stati buttati fuori subito Quindi EU maggiore DNA Senza ombra di dubbio E niente, io spero che il prossimo anno Altre squadre europee e mondiali combattano proprio per la prima posizione Gli europei veramente sono cresciuti moltissimo E spero finalmente che il prossimo anno Almeno alla Challenger Series ci sia qualche italiano Forse ci riusciamo, dai Questa domanda l'ho ripresa perché comunque l'abbavano fatta molto 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 tempo fa E vorrei, visto che siamo cresciuti tantissimo Ridirlo in un FAQ Ovvero sia Azrael mi chiede Che cosa ho fatto sul gomito destro Beh ragazzi è semplicemente una voglia Una voglia che niente Sono nato così e ce l'ho Mi piace molto anche perché mi contraddistingue È un segno che è veramente molto carino Che mi piace Quindi ragazzi non vi preoccupate È soltanto una voglia Una macchia che ho sulla pelle Quindi shallah E questo ragazzi è arrivato il momento che molti di voi aspettavano Ovvero sia le cagate atomiche che mi scrivete nei commenti Così per fare qualche battutina Iniziamo con Ralph che scrive Un uomo chiede ad un'anatra Ma dove abiti? E l'anatra risponde Wow Ragazzi Scoop in esclusiva per voi Matteo Renzi mi ha commentato un video Dicendomi Eh signor Zanchino Questa partnership con One Up Box Non le darà mai i miei 80 euro Fega Renzi Non me le dai nemmeno tu questi 80 euro Movi da cacciarli Ovviamente non so sottolineare Che sicuramente il profilo di Matteo Renzi Che mi ha commentato Ha sicuramente un fake Lo dico così per correttezza Concludiamo in bellezza con Il bananone che dice Sai com'è nato il fucile? Un uomo dice ad un altro Allungami la pistola Comunque ragazzi Anche per oggi è finito Io vi invito a lasciare tanti like Arriviamo almeno a 300 anche questo fuck Noi ci rivediamo prossimamente Con un nuovo video Ricordatevi di seguirmi sia su Instagram Che su Facebook Che iscrivervi qui su Youtube Ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao